Collegherà Castel del Piano a Fontivegge con più di 20 fermate attraversando l'area di Sant'Andrea delle Fratte, il polo ospedaliere universitario di Santa Maria della Misericordia per poi permettere proprio a Fontivegge di raggiungere il centro storico attraverso l'intermodalità. Si tratta del nuovo bus elettrico, il bus rapid transit, il cui progetto è stato approvato in via definitiva dall'Aggiunta Comunale di Perugia. L'obiettivo, come viene spiegato in un comunicato ufficiale del Comune, è quello di mettere in collegamento la periferia sud-occidentale della città con la stazione. I lavori partiranno nella primavera del 2024 per un importo di più di 11 milioni di euro. Il Metrobus rientra nell'ambito del decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 16 novembre 2021 tra i progetti del Comune di Perugia messi a finanziamento PNRR per un importo complessivo superiore agli 86 milioni di euro.